1940 L'Europa è nostra. Possiamo invadere l'Inghilterra quando vogliamo. La leggendaria resistenza dell'aviazione inglese contro quella tedesca. E' certo che gli aerei nemici non si faranno attendere a lungo. Durante la seconda guerra mondiale. Ci mancano 200 piloti. Stiamo combattendo per sopravvivere. Inizia la storica battaglia d'Inghilterra. Far alzare due pattuglie! I lunghi giorni delle aquile. Questa sera 21 e 10. Rai Movie.